Grazie a tutti. Grazie a tutti. Che cazzo è? Che paura. C'è il tuo problema? Qual è? Me lo spieghi. Spiega un po'. Sei geloso quando faccio i video? Io scendo ottica in questo momento urge un caffè, una tazzurriola e caffè. Aspetta che sento delle strade voci. Fede, ma io sto qua sotto, casa tua, se te lascio solo i corsi... Ma poi che ha sto zzzzz ogni due secondi, vabbè? Questa è l'ambulanza per lei, la porta via. Ci risulta che sta male, sbaglio? Dall'analisi emerge chiaramente che lei ha qualche problemino. La stanno venendo a prendere, comunque, non si preoccupi. Ma da voi ci sono queste cose? E' una cazzo, però... Scrivete nei commenti se avete... Ma che cos'è? Forse il mio. Perché se è così, cioè... Mi pare un dolce che... Ah! Bene. Ci siamo sporcati per bene. E' un attimo appiccicoso sta cosa. Ma perché non si tira poi? Ma che ne so. La prima volta ci ho messo 40 minuti, ho dovuto tagliare tutto un video. Mamma mia, che cagliata. Oh! beh si diciamo che abbiamo fatto 20 settembre del girato madonna ma perché mi fa no è un ranzo sono le forbici ma perché secondo me hai fame un po' cioè io la mattina quando faccio video ho sempre non vado a ponire mangio altri ce li facciamo anche perché lei non ha poco mangiato è andata a colazione insomma però prima mi mangio no mandorla adesso tocca a te hai già lasciato il mi piace? iscriviti e clicca sulla campanella per non perderci di vista oppure abbonati se vuoi sostenermi ed entrare a far parte della Feri Crew ah e se vuoi continuare a rilassarti clicca su uno di questi altri video che ti lascio qui intorno penso possa piacerti buonanotte ok 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 ok